Il mio cordiale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con il nostro Talk Sicilia elettorale e cominciamo da oggi il giro di conclusione di questa campagna elettorale per le regionali e stiamo a sentire di nuovo, lo abbiamo già fatto in apertura di campagna, in chiusura di campagna i candidati alla presidenza della regione. Cominciamo con Nuccio Di Paola che è tornato a trovarci in questi studi dove è stato circa un mese fa e ci ha raccontato un po' quella che è la visione del Movimento 5 Stelle di questa campagna elettorale del futuro della Sicilia, torna per parlare con lui di come è andata questa campagna, delle aspettative, insomma un po' di tutto. Nuccio Di Paola lo ricordo per chi non lo sapesse ma sono certo che lo sapete tutti, è il candidato presidente della regione per il Movimento 5 Stelle dopo che c'è stata quella separazione con il PD che abbiamo seguito ma che ormai è un fatto consolidato del quale c'è poco da aggiungere. E allora Nuccio, chiuderete la campagna elettorale naturalmente venerdì ma già una settimana prima di questa chiusura è venuto Giuseppe Conte, ha fatto tre giorni in giro per la Sicilia con numerosissime tappe. Come l'hai vissuta? Mi intanto considera che quando abbiamo concordato col presidente Conte questi giorni qua in Sicilia inizialmente ho detto al presidente, presidente non scendere in Sicilia. Il presidente mi ha detto come non devo scendere, perché non devo scendere? E' perché guarda i sondaggi ci danno ad una percentuale molto bassa, quindi io mi aspetto che la gente non parteciperà ai nostri incontri. Il presidente mi dice no Nuccio, cerchiamo di essere fiduciosi, io comunque voglio venire in Sicilia, andiamo insieme, facciamo delle passeggiate, poi queste passeggiate sono diventate dei veri e propri bagni di folla, di affetto da parte dei siciliani. Questa dimostrazione è che i sondaggi, come abbiamo sempre detto, sono sondaggi farlocchi, tra l'altro commissionati dalle stesse forze politiche. Noi abbiamo visto un entusiasmo crescente di giorno in giorno e considerate che alcune piazze io non le ho mai viste così piene e così partecipate. Faccio l'esempio di Palermo, ma anche Gela, Marina di Ragusa, Catania stessa, cioè veramente abbiamo toccato tutta la Sicilia perché abbiamo fatto in totale dieci comizi in dieci città diverse della Sicilia, abbiamo toccato almeno un comune a provincia e devo dire che in due giorni e mezzo non ci siamo per nulla stancati perché l'affetto dei siciliani è stato veramente enorme. Una delle prime cose che abbiamo pubblicato è stata una fotografia particolare dopo il primo comizio di Catania che ritraeva tè a cena con Giuseppe Conte con la bella birra in mano. Qualcuno quella fotografia l'ha anche un po' fra virgolette criticata, presa in giro. No ma io ho detto al Presidente Conte guarda noi al di là dei comizi che dobbiamo fare, abbiamo fatto poi alla fine anche se inizialmente erano delle passeggiate ma poi la gente ci chiedeva di parlare, io dico tu devi stare tra la gente, dobbiamo stare tra la gente, ma lo stesso Presidente Conte ci tiene a stare insieme ai cittadini a poter scambiare con loro anche poi un confronto anche personale perché è giusto che il politico, anche quel politico che ha avuto delle cariche importanti perché ricordiamoci che il Presidente Conte è stato Presidente del Consiglio, però guarda portarlo alla pescheria di Catania e non solo alla pescheria di Catania perché siamo stati in giro città per città nei centri popolari della città, portarlo alla pescheria di Catania in mezzo ai giovani, a quei tanti giovani che ho visto presenti nei comizi perché veramente oggi vogliono cambiare la Sicilia e l'Italia e loro hanno l'entusiasmo e la speranza per poterlo fare, è stata una cosa veramente bella e quando poi ci siamo un attimino seduti perché poi abbiamo mangiucchiato qualcosa e preso una birra, hanno scattato questa foto che noi abbiamo voluto pubblicare perché poi c'è stato l'affetto dei giovani che si sono avvicinati, hanno applaudito e si sono confrontati con noi e secondo me questo è un modo diverso e migliore di fare politica perché molti altri competitor oggi si chiudono all'interno dei teatri, invece la politica deve rimanere a contatto con il cittadino sempre. E questo quindi è il messaggio che avete voluto mandare, piazze piene, questo l'abbiamo sottolineato in tutti gli articoli in cui abbiamo raccontato questa tre giorni, questa tour di tre giorni di Conte in Sicilia, ma secondo voi quanto contano veramente le piazze poi dentro il chiuso dell'urna? Ma guarda, ti posso dire, è vero, perché poi c'è il detto piazze piene e poi pochi voti, però guarda, in un election day, perché ripeto, ancora molti stanno sottovalutando questa particolare partita politica che è completamente atipica rispetto ad un'elezione comunale o ad un'elezione regionale del passato. Io sentivo la gente che gridava a gran voce al Presidente Conte Presidente salvaci! Noi rispondevamo, guardate che non è una persona che può salvare un territorio, ma è grazie al supporto di tutti i cittadini, grazie al supporto dei siciliani, perché ovvio che se noi dobbiamo salvare questa Sicilia, la salviamo se poi la governiamo, se poi ritorniamo all'opposizione della regione siciliana, difficilmente, possiamo sempre incidere come abbiamo fatto in questi dieci anni, ma non possiamo veramente cambiarla, solo governandola si può cambiare, e quindi il messaggio che noi facevamo passare ai cittadini che erano lì presenti, guardate che voi dovete portare, dovete essere voi a portare a votare almeno tre indecisi o tre persone che oggi non vogliono andare a votare, quindi se c'è l'impegno da parte di tutti quelli che sono stati presenti nelle piazze insieme al Presidente Giuseppe Conte, io credo che ci sarà un bel risultato sia per quanto riguarda l'elezione nazionale, sia per quanto riguarda l'elezione regionale. Il tema, il modo in cui affrontiamo noi queste interviste, chi ci segue ormai lo sa, è un modo quasi un po' da chiacchiera di salotto, ma cercando di capire proprio quello che sono i pensieri dei nostri candidati e l'intimo, quindi pongo una domanda così come parlavamo prima fuori onda di un fatto, c'è stata una frase di Giuseppe Conte che ha innescato una polemica poi con Matteo Renzi, quella frase insomma è stata, la ricordo sommariamente, è stata rivolgendosi a Renzi, vieni a dirlo in piazza qui senza scorta che bisogna abolire il reddito di cittadinanza, è stata interpretata come una minaccia o un invito all'aggressione, era quella o era qualcos'altro, ma diciamoci le cose come stanno, perché è anche opportuno dirlo, raccontarlo, come è nata. Credo che comunque i cittadini sanno benissimo che il carattere, i modi del Presidente Conte, tra l'altro noi abbiamo un codice etico ben preciso e siamo i primi a contrastare tutto quell'odio sociale su cui spesso molti partiti soffiano, io credo che quella frase sia stata estrapolata da un contesto, io ero presente, eravamo ad Agrigento, c'era un punto stampo ed eravamo lì con tantissima gente attorno ed è stata strumentalizzata fortemente, in maniera voluta da parte di una forza politica che oggi è in fortissima difficoltà. Io stesso ricordo che quando ho firmato e presentato la mozione di sfiducia al Presidente Musumeci, io stesso che sono una delle persone pacifiche, che comunque cerca con modi accordiali di risolvere i problemi, ho poi pubblicato una locandina perché stavamo realizzando lo sfiducia dei nei confronti, insomma per coinvolgere quanti più siciliani possibili in quella sfiducia che il Movimento 5 Stelle presentò al Presidente Musumeci, l'unico mio sbaglio fu ingrandire quella locandina che era rossa e quel rosso venne strumentalizzato come se io volessi inneggiare a chissà quale cosa nei confronti del Presidente Musumeci. Allora spesso le forze politiche, spesso alcuni attori politici quando si trovano in fortissima difficoltà tendono di strumentalizzare l'altro o tendono di strumentalizzare alcune cose, alcuni passaggi che magari lì sul momento vengono dette all'interno di un contesto che poi se io lo estrapolo poi posso strumentalizzare al meglio. Da parte nostra c'è sempre stato un forte impegno, abbiamo anche un codice etico come Movimento 5 Stelle ma il Presidente Conte nel corso degli anni ne ha dato piena dimostrazione che è la nostra forza politica, una forza politica che dà un po' di tempo a questa parte con il Presidente Conte assolutamente è una forza politica che non soffia minimamente sull'odio sociale a differenza di altri. Quindi state dicendo che insomma siete diversi da quella che era questa lì della prima ora che onestamente sulla pancia soffiavano parecchio sulla pancia della gente o sbaglio? Ma questo penso che sia innegabile, noi portiamo avanti gli stessi valori per quanto riguarda la riduzione degli sprechi della politica, noi siamo quelli che con coerenza abbiamo mantenuto la regola del secondo mandato, noi siamo quelli che con schiena dritta ci presentiamo con i programmi agli italiani, ai siciliani e in questi giorni il Presidente Conte, siamo in forte crescita anche perché il Presidente Conte sta raccontando quello che di buono è stato fatto e cioè il fatto che l'80% del programma che è stato presentato a livello nazionale del 2018 è stato poi concretizzato. Quindi noi siamo questi e siamo quelli che siamo partiti da una protesta perché nel 2012 il nostro voto era un voto di protesta ma oggi con l'esperienza che è stata maturata in questi anni e con una ben precisa visione che punta fortemente sul sociale, che punta fortemente a dar voce a tutti quei cittadini che vivono ai margini della società si propone come forza di governo e si propone come forza di proposta che vuole poi concretizzare quelle proposte. Quindi sì, ci siamo evoluti, siamo migliorati ma come è giusto che sia, in dieci anni abbiamo fatto esperienza, i siciliani ci hanno permesso di fare esperienza, gli italiani ci hanno permesso di entrare dentro le istituzioni ed è giusto ad oggi portare avanti un programma ben preciso. Se non ricordo male la frase è proprio tua, dopo il cavallo del reddito di cittadinanza hai lanciato il reddito energetico? Ho lanciato il reddito energetico e ne parlano pochi di quello che sta succedendo in questi giorni e in queste settimane, soprattutto alle attività e alle famiglie siciliane. Io ieri ho dormito presso un albergo palermitano e mi ha sorpreso una cosa, cioè che alla reception ho trovato una mega bolletta, grande, una stampa di una bolletta dove c'era la cifra evidenziata di 23 mila euro. Io ho chiesto al direttore dell'albergo come mai avesse messo in maniera così grande questa bolletta. Lui mi diceva guarda l'ho fatto perché nel mese di agosto ho pagato una bolletta di 23 mila euro a fronte di bollette nei mesi passati e anche dell'anno scorso nello stesso periodo di 3-4 mila euro. Oggi noi stiamo vivendo una crisi enorme che probabilmente avrà un impatto forte nel mese di ottobre e novembre perché i costi dell'energia elettrica sono aumentati in maniera vertiginosa. Allora qual è la proposta che noi stiamo facendo? Nel breve termine bisogna subito immettere fondi, bisogna subito immettere soldi per cercare di mitigare questi costi e qui deve intervenire lo Stato ma può intervenire anche la regione siciliana tramite fondi dell'FSC, quindi fondi europei. A medio e lungo termine invece dobbiamo dare la possibilità ai negozianti, alle attività commerciali, ai cittadini di poter sfruttare la nostra risorsa più grande che è il sole. Qui noi abbiamo il sole tutti i giorni l'anno, è una risorsa preziosa e allora diamo loro l'opportunità tramite un fondo di rotazione con soldi della regione siciliana di realizzare a fondo perduto il proprio impianto fotovoltaico di modo tale da abbattere i costi della bolletta. Il fondo di rotazione si autoalimenta perché tutto quello che viene prodotto in più dal negoziante o dal cittadino siciliano viene immesso in rete e i guadagni non vanno al cittadino, non vanno al negoziante ma ritornano alla regione. Quindi è un fondo che si autoalimenta, è una proposta che si è già concretizzata, che hanno già concretizzato in Puglia e in Sardegna. Perché non si deve fare qua in Sicilia? Non capisco perché su queste cose poi la politica non sceglie. Io voglio eliminare gli sprechi, eliminare gli affitti d'oro della regione siciliana e prendere quei fondi per realizzare questo fondo di rotazione. Adesso parliamo un attimo di Sicilia, però mi sembra giusto e corretto parlare proprio di quello che è il vostro cavallo di battaglia, che è sempre reddito di cittadinanza, che è stato al centro anche della campagna elettorale delle amministrative quando in realtà c'entrava poco in quella occasione, mentre in questa occasione è più a tema perché stiamo parlando di elezioni politiche e dunque il prossimo governo si dovrà occupare di questo, ma anche voi avete cavalcato questa tigre per tutta questa campagna elettorale. Va bene così com'è o va riformato? Va migliorato. Io quello che dico sempre è che va migliorato e soprattutto vanno attuate le politiche attive del lavoro. Cosa che le regioni... Cioè collegare il reddito all'opportunità di lavoro, questo è il concetto. Non soltanto sostegno, perché è quello che è mancato. Ma perché è mancato? Perché noi dobbiamo ricordare ai siciliani e agli italiani che le regioni sono quelle che devono poi attuare e concretizzare le politiche attive del lavoro. E la maggior parte delle regioni in Italia sono governate, sono state governate dal centro-destra. Il presidente Musumeci non ha realizzato il concorso di 1200 posti per i centri per l'impiego, o meglio, lo ha realizzato negli ultimi mesi e non lo ha ancora concretizzato, non lo ha ancora finalizzato, quando già questi fondi erano stati messi nel 2019. Quindi se non funzionano i centri per l'impiego, ma il matching tra la domanda e l'offerta, chi lo deve fare? Allora, a questo punto noi abbiamo fatto tutta una serie di proposte. Io ho incontrato in questi giorni le aziende agricole, ho incontrato gli imprenditori e ho detto loro guardate che il nostro primo impegno sarà quello di mantenere il reddito di cittadinanza perché porta un gettito economico di un miliardo di euro l'anno in Sicilia. Cioè i 700 mila per settori siciliani spendono tramite il reddito di cittadinanza un miliardo di euro l'anno nei nostri negozi, nei nostri mercati, nei nostri supermercati. E noi non possiamo perdere quell'economia, che è fondamentale. Però l'impegno massimo che metterò, se i siciliani me ne daranno l'opportunità, da Presidente della Regione, è quello subito di attuare le politiche attive del lavoro, di dare l'opportunità anche agli agricoltori che hanno bisogno di manodopera stagionale di poter integrare i fondi del reddito di cittadinanza, non far perdere il reddito di cittadinanza a quei lavoratori che possono essere abili al lavoro, ma poterli utilizzare per quei due mesi e ricevere un'integrazione da parte dell'agricoltore. Sono tutti meccanismi che ad oggi non hanno funzionato, perché di fatto la Regione siciliana, non solo per i percettori del reddito di cittadinanza, ma anche per i nostri giovani, non ha realizzato nel corso degli anni le politiche attive del lavoro. Al più ha fatto solo dei tirocinanti, dei tirocini a titolo gratuito o con 500 euro al mese che poi manco venivano retribuiti o sono stati retribuiti con forte ritardo. Allora se noi abbiamo una visione concreta sulle politiche attive del lavoro, e noi ce l'abbiamo, sia per i giovani sia per i percettori del reddito di cittadinanza, io sono convinto che questa misura funzionerà al meglio anche con i controlli che devono essere fatti. Adesso entriamo quindi proprio in maniera diretta in ciò che c'è da fare per la Regione siciliana. Sicuramente le politiche attive del lavoro l'abbiamo già detto. Poi Nuccio Di Paola, 27 di settembre, Presidente della Regione. Cosa fa? La prima cosa che farò, questo l'ho detto perché mi viene più semplice come cosa, ritirerò subito l'evidenza pubblica farlocca che è stata realizzata negli ultimi mesi al Presidente Musumeci per la realizzazione di due mega inceneritori, inceneritori, termovalorizzatori, termoutilizzatori, chiamiamoli come vogliamo. Quella è la prima cosa che farò perché sarà semplice da realizzare. Ritirerò subito questa evidenza pubblica e andrò a convocare tutte le 18 SRR, che sono le società pubbliche che gestiscono il rifiuto in Sicilia, perché abbiamo un'enorme emergenza, non ne parla assoluto nessuno, qualcuno dice che gli ingeneritori sono la nostra soluzione, assolutamente no, perché dico ai cittadini che per realizzare un ingeneritore ci vogliono comunque almeno 5-6 anni, noi l'emergenza ce l'abbiamo adesso, perché i rifiuti per strada ce l'abbiamo adesso, perché adesso non sappiamo dove mettere i rifiuti. Questa è la verità ad oggi, perché non abbiamo realizzato nel corso degli anni quell'impiantistica di prossimità. Ogni territorio deve poter chiudere il proprio ciclo di rifiuti, con impianti ad innovazione tecnologica, con impianti che non vanno a realizzare la combustione del rifiuto, ma che vanno a completare quel percorso virtuoso di economia circolare che deve finalmente vedere la tassa dei rifiuti abbassare. Ed un'altra cosa che farò, questo per quanto riguarda l'ambiente e i rifiuti, un'altra cosa che farò è lancerò subito la riforma sulla sanità, perché noi vogliamo realizzare un'unica azienda regionale siciliana. Noi elimineremo le nuove ASP, le toglieremo queste nuove ASP, ed elimineremo così le 27 nomine politiche, perché la sanità deve essere portata all'interno delle abitazioni del cittadino. Oggi facciamo tutto con lo smartphone ed è inconcepibile che ancora la sanità viene vista come una sanità ospedalocentrica, che spreca tantissime risorse e non risolve i problemi di salute del cittadino. C'è un grande tema però, facendo un'unica grande ASP, perché almeno per quelle che sono le esperienze maturate in passato, le aziende troppo grandi diventano difficili da gestire. E dico, ma in Emilia Romagna e in altre regioni come fanno? Perché in Emilia Romagna già questa cosa è stata attuata. Perché in altre regioni d'Italia tutto ciò è stato realizzato e in Sicilia no? Noi possiamo benissimo andare a dividere, così come ha fatto l'Emilia Romagna, l'azienda sanitaria regionale in ambiti territoriali. Quindi facciamo degli ambiti territoriali diversi dai collegi elettorali. Quindi non dividiamo la sanità, che ricordo deve lavorare in rete, perché lo diciamo da tempo che la sanità regionale deve lavorare in rete, ma se noi la dividiamo in nove collegi elettorali non lavorerà mai in rete, perché ogni politico spingerà per il proprio comune, per il proprio ospedale. E invece noi dobbiamo finalmente attuare la rete sanitaria in maniera concreta e farla lavorare non più per divisioni politiche, ma la facciamo lavorare a seconda dei territori. Se ci sono territori montani c'è un'esigenza, se ci sono territori costieri l'esigenza è un'altra, così come le città metropolitane. Abbiamo esigenze diverse, ma se le mettiamo in rete possiamo funzionare. Bene, sanità. Sanità, ambiente sui rifiuti già ti ho detto, sul discorso del reddito energetico che ti ho già parlato, l'altra proposta forte e concreta è sui giovani. Noi i giovani li vogliamo mettere al centro, perché un presidente, permettetemi di dire, mediamente è giovane, perché ne ho 40 di anni, però stavolta ai giovani noi vogliamo dare, non il tirocinio che devono poi andare a realizzare all'interno delle aziende, noi vogliamo dare qualcosa di oltre, cioè noi vogliamo dire al giovane, così come accade in altre regioni, noi ti diamo 25 mila euro, sono soldi sempre della regione, 25 mila euro, crea assieme alle categorie che ti staranno accanto, pensa a tutte quelle categorie che rappresentano gli artigiani, o che rappresentano le imprese siciliane, assieme a quelle categorie, fate il business plan insieme, fatti approvare questa tua proposta, la regione te la finanzia, non ti do i soldi per il tirocinio, ti do i soldi per poter concretizzare la tua idea, e quindi una regione che si mette a fianco ai giovani, dice a loro, noi crediamo nelle vostre idee, crediamo nella vostra creatività, mettetela in campo, altre regioni lo fanno, accanto anche a incubatori di impresa, lo vogliamo fare pure noi, perché non vogliamo che i nostri giovani vadano via dalla Sicilia, dopo aver studiato e dopo aver investito su di loro. Ti faccio un'ultima domanda, prima poi del tradizionale, perché questa trasmissione si conclude sempre con una sorta di appello al voto, un'ultima domanda che riguarda la continuità territoriale, abbiamo un grande problema, il centro-destra parla di nuovo di ponte sullo stretto, ma a prescindere di ponte sullo stretto, sì o no, abbiamo comunque un problema di mobilità importante che va risolto la Sicilia, il siciliano che vuole tornare a casa o che vuole uscire in un periodo particolare dalla Sicilia, si trova sempre a pagare cifre esorbitanti, come si risolve questo problema? Guarda, si risolve, io ti faccio un esempio che non è di un partito piuttosto che un altro. No, parliamo di buonsenso. Sì, no, 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 a me è piaciuta molto, devo dire, la sfida e l'impegno, ecco perché poi il politico su queste cose poi deve essere pragmatico e concreto, è l'impegno che c'è stato per realizzare il Ponte Mera, se vi ricordate sul Ponte Mera è nata una sfida tra il sottosegretario Cancelleri e l'assessore Falcone, una sfida che è stata anche dibattuta con l'opinione pubblica, ma una sfida che ha permesso ad entrambi i politici che fanno parte di schieramenti diversi, di poter realizzare in poco tempo quell'opera, cioè quell'infrastruttura ha avuto luce in pochissimo tempo, in tempi celeri, proprio perché da un lato la regione, in questo caso l'assessore alle infrastrutture, dal lato lo Stato col sottosegretario, hanno oltre ad essere presenti nei cantieri, perché secondo me poi la politica deve essere presente nei cantieri, hanno attuato quel meccanismo di competizione sana che ci deve essere, che poi ha permesso di velocizzare l'opera. Questo è quello che deve essere fatto dalla buona politica e ricordo che il governo Conte II è stato il primo governo, tutti parlano sempre di ponte sullo stretto, di mega infrastrutture, ma è stato il primo governo che ha finalmente deciso e ha investito nel portare l'alta velocità in Calabria e se l'alta velocità finalmente viene portata in Calabria, io spero e faremo di tutto, da governatore della regione siciliana farò di tutto per portare l'alta velocità anche in Sicilia. Quindi questa è la soluzione secondo Nuccio Di Paola, o quantomeno una parte della soluzione. Una parte è la soluzione perché ovvio che parallelamente ci devono essere tecnici all'interno delle macchine amministrative, noi siamo carenti di tecnici, soprattutto nei comuni, ma anche a livello regionale abbiamo una forte carenza di tecnici, senza tecnici non si fanno progetti, senza tecnici non c'è la manutanzione e senza tecnici poi le opere vanno a rilento. Noi questa cosa dobbiamo cercare di accompagnarla, magari prendendo anche dei tecnici esterni che possono mettersi a fianco a quelli pubblici, soprattutto nel periodo che verrà che dobbiamo andare a concretizzare i fondi del PNRR. E poi si possono fare, io una proposta che ho fatta è sulle strade interpoderari, ad esempio per gli agricoltori, destiniamo delle somme sul trasferimento degli enti locali ai sindaci con una specifica dicitura, cioè li devi spendere vincolati per realizzare e manutenzionare le strade interpoderari. È un segnale, lo facciamo già per i comuni che hanno la bandiera blu, facciamolo anche per le strade interpoderari, per gli agricoltori. Il tempo è finito, gli ultimi 30 secondi, perché votare Movimento 5 Stelle e Nuccio Di Paolo? Perché è il momento di confrontarsi e dialogare continuamente e proiettare la Sicilia nel 2027. Grazie a Nuccio Di Paolo per questi 24 minuti che ha nuovamente trascorso con noi, sono i secondi, era già venuto e aveva già raccontato la sua visione, questa è la visione del candidato presidente della regione del Movimento 5 Stelle, e speriamo di esservi stati utili nella scelta da fare, poi dentro la cabina elettorale. Grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento rinnovato, al prossimo Talk Sicilia.